Teramo, città solidale e cittadinanza attiva, fa ricorso nuovamente al TAR per il teatro romano. Cosa sta succedendo? Questo è un secondo ricorso che viene fatto. Il primo è stato fatto da Teramo Nostra sull'intera procedura amministrativa di recuperare il teatro romano. Invece questo qui è per vedere se è efficialmente stato rimesso un progetto preliminare o definitivo all'amministrazione da parte dello studio Belluomo. Noi abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, in tal senso non è stata esauriente e completa. Ci hanno risposto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato depositato negli uffici, però ci hanno risposto che è quello del 2010. Invece quello del 2010 era uno studio di fattibilità tecnica ed economica e non un progetto. La copertura in vetro non vi è piaciuta? Come dovrebbe essere secondo voi questo teatro romano? Allora, l'unica cosa, noi ripartiamo dalla delibera di Consiglio Comunale adottata ad un'unanimità nell'anno 2010 che prevede la demolizione dei due caseggiati, quindi Palazzo Adamoli e Palazzo Salvoni e la riapertura della cavea del teatro romano. Partiamo da qui e su questa base è che si deve recuperare il teatro romano, quindi il progetto non può essere diverso a nostro avviso. Voi pensate ad un referendum, ma i cittadini secondo lei sono competenti in materia? In questo momento noi stiamo svolgendo sia la raccolta firme presso i portici sotto al caffè Gran d'Italia che anche sul quartiere Conan e in prossimità del Conad della Cona, diciamo. In questa fase faremo sia un'attività di promozione, quindi di informazione del referendum, e sia attraverso incontri, conferenze cittadine, riunioni, spiegheremo sotto i gazebo le finalità del referendum con dei moduli, con dei replianti informativi e sia anche la raccolta firme, quindi le adesioni per fare sì che venga promosso il forum cittadino. Ok, ma dei tecnici servirebbero per la ristrutturazione, per studiare un piano. I cittadini sono in grado con le vostre informazioni di poter dare un parere in merito, non conoscendo magari tutta la storia che c'è dietro e tutto il resto, insomma? Allora, i cittadini è giusto che partecipino, che abbiano, che propongano le loro proposte, le loro idee e quindi poi saranno i tecnici e l'amministrazione attiva a raccoglierle attraverso degli strumenti tecnici e fare in modo che vengano realizzate queste idee.